La politica è diventata schiava dell'algoritmo, non ci sono più gli argomenti, ci sono gli influencer ed invece noi abbiamo bisogno della politica con la P maiuscola, così Matteo Renzi, leader di Taglia Viva a Matera, in occasione della presentazione del suo ultimo libro, Palla al Centro, è un momento per fare il punto rispetto a quello che abbiamo fatto, ha detto Jobs Act, Industria 4.0, Diritti Civili, a Matera la Ferrovia che arriva nel 2026, ma è anche il momento per guardare avanti ad un Sud auspicabilmente sempre più forte, ad un'Europa che possa diventare il luogo della politica. Oggi la scommessa è un'altra, la scommessa è che tipo di Italia vogliamo per il futuro e che tipo di Europa vogliamo per il futuro, visto che qui non ne parla nessuno, ma scoppia una guerra a settimana, c'è una tensione costante, io sono preoccupato da padre, allora io mi candido all'europeo, rimetto la faccia fuori dopo tanto tempo e sono convinto che faremo un grandissimo risultato, partendo però da un'idea di sviluppo di Matera, di potenza della Basilicata, che è quella che ci ha portato come Italia Viva e Terzo Polo ad avere il risultato, paradossalmente nessuno lo dice mai, ma migliore d'Italia, perché la percentuale che abbiamo preso in queste zone del paese è stata straordinaria. Ecco, faremo un grande risultato dai regionali e un grande risultato ad europei, ma è il secondo tempo. In mattinata Renzi è stato anche a Taranto dove ha parlato di Exilva, la vera sfida ha detto è che il governo riesca a sciogliere l'annodo di questo rapporto complicato con la proprietà, di andare in una direzione o nell'altra, penso che la priorità nell'immediato sia pagare le aziende dell'indotto. Sull'autonomia differenziata ha detto per me una riforma che non sta né in cielo né in terra, è sbagliata, è scritta male, non funziona. Così invece sulle prossime elezioni regionali in Basilicata. Rispetto a quello che accadrà alle regionali, noi abbiamo sempre detto una cosa con Luca, Mario e con tutto il partito. Noi faremo le scelte sulla base di quelli che saranno i candidati in campo. Pare di capire che ormai ci siamo, è questione di poco e dopo una lunga, lunga, lunga trattativa vedremo quali saranno i candidati e alla luce di questo decideremo. Posso dire una cosa, penso che noi saremo decisivi per la vittoria del candidato presidente. Poi su Angelo Chiorazzo, candidato proposto da Basilicata a Casa Comune per il centrosinistra appoggiato dal PD. Abbiamo interloquito con il candidato fino all'unico in campo che è Angelo Chiorazzo, interloquiremo con gli altri candidati quando saranno ufficiali e poi assumeremo una decisione. Non bastano chiaramente i nomi per garantire un cambiamento, ci vuole anche un ragionamento sulle politiche, sulla sostanza. Noi non abbiamo una cosa precostituita perché non l'abbiamo a livello nazionale. Certo, abbiamo già detto che per noi andava bene Angelo Chiorazzo, andava bene anche fare le primarie, però adesso vedremo come andrà a finire e ci renderemo conto.